Jacob Todd non si lasciava scappare occasione per recarsi dai Somers. Non ci fu ospite più assiduo e puntuale agli incontri, più attento quando Miss Rose cantava con i suoi impetuosi gorgheggi, né più pronto a onorare le sue battute, comprese quelle non prive di crudeltà con cui era solita attormentarlo. Era una persona ricca di contraddizioni, ma questo non valeva anche per lui. Non era forse un ateo venditore di Bibbie che stava bindolando mezzo mondo con la fola di una presunta missione evangelizzatrice? Si chiedeva perché, pur essendo così attraente, non si fosse sposata. Una donna nubile alla sua età non aveva né un futuro né uno spazio nella società. All'interno della colonia inglese si mormorava a proposito di un certo scandalo di anni prima in Inghilterra e ciò poteva spiegare la sua presenza in Cile e il ruolo di governante del fratello, ma lui non volle mai conoscere i dettagli di quella diceria e preferì il mistero alla certezza di qualcosa che forse non avrebbe saputo tollerare. Il passato non aveva molta importanza, si ripeteva. Era sufficiente un unico passo falso o un errore di calcolo per infangare la reputazione di una donna e impedirle di contrare un buon matrimonio. avrebbe dato due anni della sua vita pur di vedere corrisposto il suo sentimento, ma lei non dava segnali di voler cedere all'assedio, anche se nemmeno lo incoraggiava ad esistere. Si divertiva ad allentare le redini per poi frenare all'improvviso. Mr. Toad è un uccellaccio del malaugurio, con strane idee, denti da cavallo e mani sudate. Non mi sposerei mai con lui, neanche se fosse l'ultimo celibe rimasto sulla faccia della terra. Miss Rose confessò ridendo a Eliza. Alla ragazza il commento non piacque, si sentiva in debito con Jacob Toad, che non solo l'aveva salvata durante la processione del Cristo di maggio, ma aveva anche taciuto l'incidente come se non si fosse mai verificato. Le piaceva quello strano alleato che sapeva di cane di grossa taglia come suo zio John. La buona impressione che già ne aveva si trasformò poi in affetto leale, quando, nascosta dietro le pesanti tende di velluto verde della sala, ebbe modo di origliare una sua conversazione con Jeremy Somers. Devo prendere una decisione per quanto riguarda Eliza a Jacob. Non ha la più pallida idea del suo posto in società. La gente inizia a fare domande e sicuramente Eliza immagina un futuro diverso da quello che l'aspetta. Non c'è niente di più pericoloso del demone della fantasia acquattato nell'animo femminile. Oh, stia tranquillo, amico mio. Eliza è ancora una ragazzina, ma è intelligente e saprà sicuramente trovare il suo posto. L'intelligenza è un ostacolo per le donne. Rose vuole mandarla alla scuola per fanciulle di Madame Colbert, ma non sono d'accordo sul fatto che le ragazze vadano tanto educate, diventano intrattabili. Ognuno ha il suo posto, è il mio motto. Il mondo sta cambiando, Jeremy. Negli Stati Uniti gli uomini liberi sono uguali davanti alla legge, le classi sociali sono state abolite. Stiamo parlando di donne, non di uomini. E poi gli Stati Uniti sono un paese di commercianti e di pionieri, senza tradizioni nel senso della storia. L'uguaglianza non esiste da nessuna parte, nemmeno tra gli animali e men che meno in Cile. Siamo stranieri, Jeremy. Balbettiamo appena il castigliano. Cosa ci importa delle classi sociali cilene? Non apparterremo mai a questo paese. Beh, dobbiamo dare il buon esempio. Se noi britannici non siamo in grado di mantenere l'ordine nelle nostre case, cosa possiamo aspettarci dagli altri? Elisa è stata allevata in questa famiglia. Non credo che Miss Rosa accetterebbe di degradarla solo per il fatto che sta crescendo. E così fu. Rose sfidò il fratello con il repertorio completo delle sue indisposizioni. Da prima furono le coliche, poi un'allarmante emicrania che dalla sera alla mattina la cecò. Per diversi giorni la casa entrò in uno stato di quiete. Si chiusero le tende, si camminò in punta di piedi e si parlò sussurrando. Si smise di cucinare perché l'odore del cibo acutizzava i sintomi, Jeremy Summers mangiava al club e tornava a casa con l'atteggiamento sconcertato e timido di chi è in visita in un ospedale. La strana cecità e i molteplici malanni di Rose, così come lo scaltro silenzio dei dipendenti della casa, ne minarono rapidamente le solide fondamenta. Come se non bastasse, mamma Fresia, misteriosamente informata delle discussioni private dei fratelli, si trasformò in una straordinaria alleata della padrona. Jeremy Summers si riteneva uomo colto e pragmatico, invulnerabile alle intimidazioni di una fattucchiera superstiziosa come mamma Fresia, ma quando l'India iniziò ad accendere candele nere e a diffondere fumo di salvi ovunque con il pretesto di spaventare le zanzare, si chiuse in biblioteca tra l'intimo rito e il furioso. Di notte la sentiva dall'altro lato della porta trascinare i piedi nudi e canticchiare a mezza voce cantilene e maledizioni. Quando il mercoledì trovò una lucertola morta nella bottiglia del brandy, decise di agire una volta per tutte. Per la prima volta bussò alla porta della camera della sorella e fu ammesso in quel santuario di misteri femminili che preferiva ignorare come del resto faceva con la stanza del cucito, la cucina, la lavanderia, le stanze buie del lattico in cui dormivano le cameriere e la casupola di mamma Fresia in fondo al patio. Il suo mondo erano i saloni, la biblioteca con scaffali di mogano scuro e la sua collezione di incisioni con motivi venatori, la sala da biliardo con il sontuoso tavolo intagliato, la sua camera arredata con semplicità spartana e la piccola stanza con piastrelle italiane destinata all'igiene personale dove pensava, un giorno o l'altro, di far installare un gabinetto moderno come quello dei cataloghi di New York perché aveva letto che il sistema di bacinelle e di raccolta degli escrementi umani in secchi da utilizzare come fertilizzanti era fonte di epidemie. Mentre aspettava che i suoi occhi si abituassero alla penombra, aspirava turbato un odore misto di medicine e persistente aroma di vaniglia. Rose si intravedeva appena, dimagrita e sofferente, sdraiata sul letto, privo di cuscino, con le braccia conserte sul petto come se si stesse esercitando per la morte. Al suo fianco Eliza stava strezzando un panno impregnato di un infuso di tè verde da collocarle sugli occhi. «Lascici soli, bambina», disse Jeremy Somers accomodandosi su una sedia di fianco al letto. Eliza accennò a chiedere discretamente permesso e uscì, ma conoscendo a mena dito i punti deboli della casa, con l'orecchio appoggiato al delicato tramezzo divisorio, poté sentire quella conversazione che poi ripeté a mamma Fresia e trascrisse sul suo diario. «Va bene, Rose, non possiamo continuare a farci la guerra. Mettiamoci d'accordo. Cos'è che vuoi?», chiese Jeremy già sconfitto. «Niente, Jeremy», sospirò lei con una voce che si sentiva appena. «Non accetteranno mai Eliza nella scuola di Madame Colbert. Lì ci vanno solo le bambine delle classi alte e delle famiglie tradizionalmente costituite. Sanno tutti che Eliza è adottata». «Oh, ci pensero io a fare in modo che l'accettino!», esclamò lei con una passione davvero stupefacente in un agonizzante. «Ascoltami, Rose. Eliza non ha bisogno di essere ulteriormente educata. Deve imparare un lavoro per potersi guadagnare da vivere. Cosa ne sarà di lei quando non ci saremo più né tu né io a proteggerla?». «Se riceverà un'educazione, farà un buon matrimonio», disse Rose, lanciando la pezza di tè verde per terra e tirandosi su dal letto. «Ma Eliza non è quel che si dice una bellezza a Rose?» «Non l'hai guardata bene, Jeremy. Migliora di giorno in giorno. Diventerà graziosa, te l'assicuro. Avrà pretendenti da vendere». «Tsch! Orfana e senza dote?» «Avrà una dote», replicò Miss Rose saltando maldestramente giù dal letto e facendo qualche passo da cieca, scapigliata e a piedi nudi. Come sarebbe? Non ne avevamo mai parlato. Perché non era giunto il momento, Jeremy. Una ragazza da marito ha bisogno di gioielli, di un corredo di biancheria sufficiente per diversi anni e di tutto il necessario per la casa, oltre a una buona somma di denaro che serva alla coppia per avviare qualche attività. E si può sapere quale dovrebbe essere il contributo del fidanzato? La casa e mantenere la donna per il resto dei suoi giorni. A ogni modo manca ancora parecchio tempo prima che Eliza raggiunga l'età del matrimonio e per quel momento avrà una dote. Io e John ci occuperemo di metterla insieme. Non ti chiederemo neanche uno spicciolo, ma non vale proprio la pena di perdere tutto questo tempo a parlarne adesso. Devi considerare Eliza come una figlia. Ma non lo è, Rose. Allora trattala come fosse figlia mia. Sei d'accordo almeno su questo? Ah, sì, c'è detto Jeremy Summers. Le infusioni di tè si rivelarono miracolose. La malata si remise completamente. Nel giro di 48 ore aveva recuperato la vista ed era raggiante. Si dedicò al fratello con incantevole premura. Non era mai stata tanto dolce e sorridente con lui. La casa riprese il suo ritmo normale e dalla cucina tornarono a uscire in direzione della sala da pranzo i deliziosi piatti creoli di mamma Fresia, il pane aromatico impastato da Eliza e i raffinati dessert che tanto avevano contribuito alla fama di buoni anfitrioni dei Summers. A partire da quel momento Miss Rose modificò radicalmente il suo comportamento volubile con Eliza e si impegnò con una dedizione materna del tutto nuova a prepararne l'ingresso a scuola. Dando inizio al contempo a un irresistibile assedio a Madame Colbert. Aveva deciso che Eliza dovesse avere studi, dote e fama di Bella pur non essendolo perché la bellezza secondo lei era una questione di stile. Sosteneva che qualsiasi donna che si comporti con l'olimpica sicurezza di una vera bellezza finisce per convincere tutti di esserlo. Il primo passo per emancipare Eliza sarebbe stato un buon matrimonio visto che la ragazza non poteva contare su un fratello maggiore che le facesse da schermo come nel suo caso. Miss Rose non vedeva quali vantaggi offrisse un matrimonio. Una sposa era una proprietà del marito e i suoi diritti erano inferiori a quelli di un servo e di un bambino ma d'altro canto una donna sola e senza fortuna si trovava alla mercè dei peggiori abusi. Una coniugata se dotata di astuzia quantomeno poteva manovrare il marito e con un po' di fortuna poteva persino ritrovarsi presto vedova. Io darei con gioia metà della mia vita pur di godere della stessa libertà di un uomo Eliza ma siamo donne e siamo spacciate l'unica cosa che possiamo fare è trarre il massimo profitto dal poco che abbiamo. Non le disse che l'unica volta che aveva tentato di volare con le sue ali la realtà l'aveva fatta schiantare al suolo perché non voleva infondere idee sovversive nella testa della ragazzina. Era decisa a darle un destino migliore del suo. L'avrebbe allenata nell'arte della dissimulazione, della manipolazione e degli stratagemmi che sarebbero risultati più utili dell'ingenuità, di questo era certa. Si chiudeva con lei tre ore alla mattina e altre tre nel pomeriggio a studiare i testi scolastici arrivati dall'Inghilterra. Intensificò lo studio del francese con un professore perché nessuna ragazza a modo poteva ignorare quell'idioma. Passava il resto del tempo a supervisionare personalmente ogni punto di cucito da Eliza per la sua dote. Lenzuola, asciugamani, tovaglie e biancheria intima meravigliosamente ricamata che poi veniva avvolta in teli e profumata con lavanda. Ogni tre mesi il contenuto dei bauli veniva estratto e steso al sole onde evitare che l'umidità e le tarme lo sciupassero durante gli anni d'attesa che lo separavano dal matrimonio. Comprò uno scrigno per i gioielli della dote e affidò a suo fratello John l'incarico di riempirlo con i regali dei suoi viaggi. Si accumularono zaffiri provenienti dall'India, smeraldi e ametiste brasiliane, collane e braccialetti d'oro veneziano e persino una piccola spilla di diamanti. Jeremy Somers non fu mai messo al corrente dei dettagli e continuò a ignorare il sistema con cui i fratelli finanziavano tali capricci. Le lezioni di piano, ora impartite da un professore arrivato dal Belgio che utilizzava una bacchetta per colpire le torpide dita dei suoi studenti, si trasformarono per Eliza in un martirio quotidiano. Iniziò anche a frequentare un'accademia tradizionale di danza e, sul suggerimento del maestro, venne obbligata da Miss Rosa a camminare per ore mantenendo in equilibrio un libro sulla testa allo scopo di crescere dritta. Eliza ottemperava gli obblighi, faceva gli esercizi di piano e camminava dritta come un fuso anche senza libro sulla testa, ma di notte se la svignava a piedi nudi verso il patio della servitù e spesso l'alba la sorprendeva addormentata sul pagliericcio abbracciata a mamma fresia. Due anni dopo le inondazioni il destino mutò, il paese godeva di un buon clima, di tranquillità politica e di benessere economico. I cileni si sentivano comunque sulle spine, erano avvezzi alle disgrazie naturali e tanta bonaccia credevano potesse essere il preludio a una catastrofe di maggiori proporzioni. In quel periodo a nord vennero anche scoperti ricchi giacimenti di oro e d'argento. Durante la conquista, quando gli spagnoli percorrevano l'America in cerca di quei metalli razziando tutto quanto passava loro tra le mani, il Cile veniva considerato il deretano del mondo perché paragonato con le ricchezze del resto del continente aveva poco da offrire. Durante la marcia forzata sulle sue grandiose montagne e per il deserto lunare del nord, l'avidità nel cuore dei conquistatori si esauriva e se qualcosa rimaneva gli indomiti indios si occupavano di trasformarlo in pentimento. I capitani, poveri e sfiniti, maledicevano quella terra sulla quale l'unica soluzione era piantare le bandiere e lasciarsi morire perché ritornare senza gloria sarebbe stato peggio. Trecento anni dopo, quelle miniere, nascoste agli occhi degli ambiziosi soldati spagnoli e spuntate all'improvviso come per magia, costituirono un premio inatteso per i loro discendenti. Si accumularono grandi ricchezze alle quali si unirono quelle derivanti dall'industria e dal commercio. L'antica aristocrazia terriera, che aveva sempre tenuto il coltello per il manico, si sentì minacciata nei suoi privilegi e il disprezzo per i ricchi dell'ultima ora diventò il segno di distinzione. Uno di questi ricconi si innamorò di Paolina, la figlia maggiore di Agustin del Valle. Si trattava di Feliciano Rodriguez de Santa Cruz, divenuto facoltoso in pochi anni grazie a una miniera d'oro sfruttata in compartecipazione con il fratello. Delle sue origini si sapeva poco, ma aleggiava il sospetto che i suoi avi fossero stati ebrei convertiti e che il roboante cognome cristiano fosse stato adottato per sottrarre vittime all'inquisizione, ragione più che sufficiente per essere apertamente rifiutato dai superbi del Valle. Tra le cinque figlie di Agustin, Jacob Todd prediligeva Paolina perché la sua indole temeraria e allegra gli ricordava Miss Rose. La ragazza aveva un modo franco di ridere che contrastava con i sorrisi delle sorelle nascosti dietro ai ventagli e alle mantiglie. Quando venne a sapere dell'intenzione del padre di chiuderla in un convento di clausura per ostacolarne gli amori, Jacob Todd, infischiandosene dell'opportuna prudenza, decise di aiutarla. Prima che la portassero via, trovò il modo di scambiare da solo con lei un paio di frasi, complice la disattenzione della governante. Sapendo di non disporre del tempo necessario per dare spiegazioni, Paolina estrasse dalla scollatura una lettera piegata e ripiegata talmente tante volte da sembrare un sasso e gli chiese di recapitarla all'innamorato. Il giorno successivo la ragazza partì sequestrata dal padre per un viaggio di diversi giorni su strade impossibili alla volta di Concepcion, una città del sud prossima alle riserve indigene, in cui le monache avrebbero portato a termine il compito di restituirle il senno a suon di preghiere e digiuni. Per evitare che le venisse la peregrina idea di scappare o ribellarsi, il padre ordinò che la rapassero. La madre raccolse le trecce, le avvolse in una tela di battista ricamata e le regalò alle beate della chiesa della matriz perché ne facessero parrucche per i santi. Nel frattempo Toad non solo riuscì a consegnare la missiva, ma grazie ai fratelli della ragazza scoprì l'esatta ubicazione del convento e passò l'informazione al tormentato Feliciano Rodriguez de Santa Cruz. Grato, il pretendente si tolse l'orologio da tasca in relativa catena d'oro massiccio e insistette perché il benemerito complice del suo amore lo accettasse. Ma quest'ultimo offeso lo rifiutò. «Non so come ripagarla per quel che ha fatto», mormorò Feliciano turbato. «Non deve farlo». Per parecchio tempo Jacob Toad non seppe nulla della sfortunata coppia, ma due mesi dopo la piccante notizia della fuga della signorina era il pettegolezzo al centro di qualsiasi riunione sociale e l'orgoglioso Agustin del Valle non riuscì a impedire che si impreziosisse sempre più di particolari pittoreschi che lo coprivano di ridicolo. La versione offerta alcuni mesi più tardi da Paolina a Jacob Toad fu che in un pomeriggio di giugno, uno di quei pomeriggi invernali, dalla pioggia fina e dal precoce imbrunire, era riuscita a eludere la sorveglianza e a fuggire dal convento, vestita con l'abito da novizia, portandosi via i candelabri dell'altare maggiore. Grazie alle informazioni di Jacob Toad, Feliciano Rodriguez e Santa Cruz si era trasferito a sud e si era mantenuto in segreto contatto con lei fin dall'inizio in attesa dell'occasione in cui incontrarsi. Quel pomeriggio la attendeva in prossimità del convento e quando la vide arrivare gli ci vuole qualche secondo per riconoscere quella novizia mezza calva che franava tra le sue braccia senza mollare i candelabri. Non guardarmi così su, i capelli ricrescono, disse lei baciandolo in piena bocca. Feliciano la riportò a Valparaiso in una carrozza chiusa e la sistemò provvisoriamente in casa della madre vedova, il più rispettabile nascondiglio che gli venne in mente con l'intenzione di proteggere il suo onore fin dove possibile, benché non ci fosse modo di impedire che lo scandalo li travolgesse. Il primo impulso di Agustin fu di affrontare in duello il seduttore della figlia ma quando si decise a farlo venne a sapere che costui si trovava in viaggio d'affari a Santiago. Si dedicò allora alla ricerca di Paolina aiutato da figli e nipoti armati e decisi a vendicare l'onore della famiglia mentre la madre e le sorelle recitavano in coro il rosario per la figlia depravata. Lo zio vescovo che aveva consigliato di mandare Paolina dalle monache cercò di infondere un pizzico di saggezza negli animi ma quei primitivi non avevano orecchie per prediche da buon cristiano. Il viaggio di Feliciano faceva parte del progetto architettato con il fratello e Jacob Todd. Lui era partito per la capitale senza fare tanto chiasso mentre gli altri due mettevano in moto il piano d'azione a Valparaiso facendo pubblicare su un giornale liberale la notizia della scomparsa della signorina Paolina del Valle. Indiscrezione che la famiglia si era guardata bene dal divulgare. Fu questo a salvare la vita agli innamorati. Alla fine Agustin si rassegnò al fatto che non erano più tempi in cui sfidare la legge e più che con un doppio omicidio era meglio lavare l'onore con un pubblico matrimonio. Si stipularono gli accordi per una pace forzata e una settimana dopo quando era tutto pronto Feliciano tornò. I fuggitivi si presentarono alla residenza del Valle accompagnati dal fratello dello sposo, da un avvocato e dal vescovo. Jacob Todd rimase discretamente assente. Paolina fece la sua comparsa vestita con un abito molto semplice ma quando si tolse il mantello tutti poterono notare che con gesto di sfida portava un diadema da regina. Procedeva al braccio della futura suocera che era disposta a farsi garante della sua virtù ma cui non fu data l'opportunità di svolgere il suo ruolo. Siccome l'ultimo dei desideri della famiglia era un'altra notizia sul giornale Agustin del Valle non poteva fare altro che accogliere la figlia ribelle e l'indesiderato pretendente. Li ricevette circondato da figli e nipoti nella sala da pranzo trasformata per l'occasione in tribunale mentre le donne della famiglia recluse dall'altra parte della casa venivano informate dei particolari dalle cameriere che sbirciavano da dietro le porte e correvano a riferire ogni singola parola. Dissero che la ragazza si era presentata con tutti quei diamanti che brillavano tra i capelli dritti della sua testa da tignosa e aveva affrontato il padre senza ombra di modestia o di timore annunciando che conservava ancora i candelabri sottratti per la verità solo per fare un dispetto alle monache. Agustin del Valle aveva agitato un frustino da cavalli ma lo sposo si era frapposto per ricevere la punizione e allora il vescovo ormai stanco ma con intatta autorità era intervenuto adducendo l'irrefutabile argomentazione che non ci sarebbe potuto essere un matrimonio pubblico che tacitasse le chiacchiere se gli sposi si fossero presentati con il viso segnato. Fai servire una tazza di cioccolata Agustin e sediamoci a parlare come persone civili aveva proposto il dignitario della chiesa e così fecero. Ordinarono alla figlia e alla vedova Rodriguez de Santa Cruz di attendere fuori perché era una questione da uomini e dopo aver consumato diverse brocche di schiumosa cioccolata giunsero a un accordo. Venne redatto un documento nel quale i termini economici furono messi bene in chiaro e l'onore delle due parti in salvo. Si firmò davanti al notaio e si procedette alla definizione dei particolari delle nozze. Un mese dopo Jacob Todd presenziò un ricevimento indimenticabile in cui la prodiga ospitalità della famiglia del Valle superò ogni limite. Ci furono balli, canti e abbuffate fino al giorno successivo e gli invitati se ne andarono commentando la bellezza della sposa, la felicità dello sposo e la fortuna dei suoceri che sposavano la figlia con un solido seppur recente capitale. Gli sposi partirono immediatamente per il nord del paese. Cattiva reputazione. Jacob Todd soffrì per la partenza di Feliciano e Paolina. Con il milionario delle miniere la sua vivace sposa aveva stretto una bella amicizia. Si trovava molto bene tra i giovani imprenditori, tanto quanto iniziava a non sentirsi a proprio agio tra i membri del club dell'Unione. Come lui, i giovani imprenditori erano imbevuti di idee europee, erano moderni e liberali, diversamente dalla vecchia oligarchia terriera che rimaneva immobile nel suo mezzo secolo di ritardo. Gli restavano ancora 160 bibbie stoccate sotto il letto, delle quali si era dimenticato perché tanto aveva perso la scommessa già da tempo. Era riuscito a padroneggiare lo spagnolo tanto da potersi arrangiare senza bisogno di aiuto e, nonostante non venisse corrisposto, continuava a essere innamorato di Rosa Somers. Due buone ragioni per rimanere in Cile. I continui sgarbi della giovane si erano trasformati in una dolce abitudine e non sortivano più l'effetto di umiliarlo. Imparò ad accettarli con ironia e a renderli senza malizia, come in un gioco a palla in cui solo loro due conoscevano le misteriose regole. Entrò in contatto con alcuni intellettuali e trascorse intere serate a discutere di filosofi francesi e tedeschi, così come di scoperte scientifiche che aprivano nuovi orizzonti al sapere umano. Aveva a disposizione lunghe ore per pensare, leggere e discutere. Si era progressivamente appassionato a idee che annotava su un grosso quaderno sgualcito dal tanto uso e spendeva buona parte della sua rendita in libri che ordinava a Londra e in testi che acquistava nella libreria Santo Stornero, nel quartiere El Almendral, dove risiedevano i francesi e dove era altresì ubicato il miglior bordello di Valparaiso. La libreria era il punto di incontro di intellettuali e aspiranti scrittori. Toad solleva trascorrere giornate intere a leggere, poi passava i libri ai suoi compagni che li traducevano in qualche modo e li pubblicavano in modesti opuscoli che facevano passare di mano in mano. Del gruppo degli intellettuali il più giovane era Joaquin Andieta, che nonostante i suoi 18 anni era in grado di compensare la mancanza d'esperienza con una naturale vocazione alla leadership. La sua personalità elettrizzante risultava ancora più sorprendente proprio se messa in relazione alla sua giovane età e alle ristrettezze economiche in cui viveva. Joaquin non era uomo di molte parole ma d'azione, uno dei pochi dotati di lucidità e coraggio sufficienti per trasformare in impulso rivoluzionario le idee dei libri. Gli altri preferivano discuterne all'infinito attorno a una bottiglia nel retrobottega della libreria. Fin dall'inizio Toad aveva provato simpatia per Andieta. C'era in lui qualcosa di inquietante e di patetico che lo attraeva. Aveva notato quanto fosse malandata la sua valigetta e sdrucita la stoffa dei suoi abiti, trasparente e inconsistente come le tuniche di una cipolla. Per celare i buchi sulle suole degli stivali non si sedeva mai in modo da sollevare i piedi come del resto non si levava mai la giacca perché, come Toad immaginava, la camicia probabilmente era un cimitero di topper a mendi. Non possedeva un cappotto decente ma d'inverno era il primo ad alzarsi all'alba per andare a distribuire i volantini e ad attaccare gli striscioni con cui si invitavano i lavoratori a ribellarsi agli abusi dei padroni, i marinai a quelli dei capitani e delle imprese di navigazione. Un'attività spesso inutile dato che i destinatari erano per la maggior parte analfabeti e i suoi appelli alla giustizia rimanevano dunque alla merce del vento e dell'indifferenza della gente. Mediante indagini svolte con discrezione, Jacob Toad scoprì che il suo amico era impiegato presso la compagnia britannica di importazione ed esportazione. Registrava gli articoli che passavano per gli uffici del porto in cambio di un misero stipendio e di un orario sfiancante. Gli venivano altresì richiesti con letto inamidato e scarpe lustre. La sua vita trascorreva in una sala non aerata e mal illuminata in cui le scrivanie si allineavano una dopo l'altra all'infinito e in cui si accatastavano fascicoli e libracci impolverati che non venivano revisionati praticamente mai. Toad chiese di lui a Jeremy Somers ma quest'ultimo non riuscì a metterlo a fuoco. Lo vedeva sicuramente ogni giorno, disse, ma non intratteneva rapporti personali con i suoi dipendenti e difficilmente poteva individuarli per nome. Per altre vie seppe che Andieta viveva con la madre ma del padre non riuscì ad acquisire informazione alcuna. Immaginò che fosse un marinaio di passaggio e la madre, una di quelle donne sfortunate che non rientravano in nessuna categoria sociale, forse illegittima o ripudiata dalla propria famiglia. Joaquin Andieta aveva tratti andalusi e la grazia virile di un giovane torero e in lui tutto suggeriva risolutezza, flessuosità, controllo. I suoi movimenti erano precisi, il suo sguardo intenso e il suo orgoglio commovente. Agli ideali utopici di Toad contrapponeva un freddo senso della realtà. Toad predicava la creazione di una società comunitaria, senza sacerdoti né poliziotti, governata democraticamente da una legge morale unica e inappellabile. Oh, lei vive nel mondo dei sogni, mister Toad. Sono talmente tante le cose da fare che non abbiamo tempo da perdere per parlare di fantasie, lo interrompeva Joaquin Andieta. Ma se non cominciamo almeno con l'immaginarcela una società perfetta, come possiamo pensare di crearla? Replicava Toad, facendo sventolare il suo quaderno ogni giorno più voluminoso, al quale aveva aggiunto piantine di città ideali in cui ogni abitante era capace di provvedere al proprio fabbisogno alimentare e dove tutti i bambini crescevano sani e felici sotto la protezione della comunità. Perché se non esisteva la proprietà privata, non si poteva certo reclamare il possesso di figli. Dobbiamo migliorare le condizioni disastrose in cui viviamo qui. La prima cosa da fare è unire i lavoratori, i poveri, gli indios, dare la terra ai contadini e togliere potere ai preti. Bisogna modificare la Costituzione, mister Toad. Qui votano solamente i proprietari, insomma, sono i ricchi a governare, i poveri non contano nulla. In un primo momento Jacob Toad architettò complesse manovre pur di aiutarlo, ma ben presto dovete desistere perché le sue iniziative offendevano l'amico. Gli commissionava lavoretti in modo da avere un pretesto per dargli dei soldi, ma Andietta, dopo averli svolti coscienziosamente, era irremovibile nel rifiutare qualsiasi forma di pagamento. Se Toad gli offriva una sigaretta, una coppa di brandy o il suo ombrello in una sera di pioggia, Andietta reagiva con gelida arroganza, lasciandolo sconcertato e a volte risentito. Il giovane non faceva mai cenno alla sua vita privata o al suo passato, si materializzava brevemente per condividere qualche ora di conversazione rivoluzionaria o qualche infiammata lettura nella libreria, per poi svanire come fumo alla fine delle serate. Non aveva spiccioli a disposizione per andare con gli altri all'osteria e non accettava inviti che non potesse ricambiare. Una sera Toad, incapace di convivere oltre con l'incertezza, lo seguì per il labirinto di strade del porto che gli consentivano di nascondersi nell'ombra degli androni o agli angoli di quel dedalo di viuzze che, stando alla gente, erano tortuose non a caso ma per impedire che le imboccasse il diavolo. Vide Joaquin Andietta arrotolarsi i calzoni, togliersi le scarpe, avvolgerle in un foglio di giornale e riporle con cura nella sua logora valigetta da dove strasse dei sandali da contadino. A quell'ora tarda, in giro, vagavano solamente gatti sfaccendati che frugavano nella spazzatura e qualche anima persa. Sentendosi una sorta di ladro, Toad avanzò nel buio praticamente incollato ai talloni dell'amico. Poteva cogliere il suo respiro agitato e il frusciare delle mani che strofinava in continuazione per combattere il vento gelido e pungente. I suoi passi lo condussero a un grande edificio cui si accedeva grazie a uno di quei vicoli stretti tipici della città. Un fetore di orina ed escrementi lo investì in pieno viso. Per quei quartieri passavano di rado gli uomini del servizio di igiene con i loro lunghi uncini per sgorgare i canali di scolo. Comprese la ragione per cui Andietta si era tolto il suo unico paio di scarpe non poteva sapere cosa stava calpestando. I piedi sprofondavano in un brodo pestilenziale. Nella notte senza luna la scarsa luce filtrava dalle imposte sgangherate delle finestre, molte delle quali prive di vetri erano state tappate con assi o cartoni. All'interno si potevano scorgere attraverso le fessure stanze miserabili illuminate da candele. La lieve foschia dava alla scena un tocco irreale. Vide Joaquin Andietta accendere un fiammifero, proteggerlo con il corpo dall'aria, estrarre una chiave e aprire una porta alla tremola luce della fiamma. «Sei tu figliolo?» sentì pronunciare nitidamente da una voce femminile più chiara e giovane di quanto si aspettasse. Immediatamente la porta si chiuse. Toad rimase a lungo al buio a osservare la casupola con l'incontenibile desiderio di bussare alla porta, desiderio dettato non solo dalla curiosità ma anche dall'infinito affetto che provava per l'amico. «Diavolo! Sono diventato scemo!» borbottò alla fine. Fece dietro front e si diresse verso il club dell'Unione per bere un goccio e per leggere i giornali. Ma prima ancora di arrivarci se ne pentì, incapace di affrontare lo scarto tra la povertà che si era appena lasciato alle spalle e quei saloni con mobili di cuoio e lampadari di cristallo. Ritornò nella sua camera consumato da un fuoco di compassione del tutto simile a quella febbre che l'aveva messo in pericolo di vita durante la sua prima settimana in Cile. Grazie a tutti.